Per l'agricoltura e il comparto ittico Ligure, il secondo trimestre del 2018 è iniziato in segno positivo, con una crescita di 20 unità di imprese attive. Lo rende noto col Diretti Liguria, su base dati Union Camere, che registra una crescita maggiore per le province di Genova, dove da aprile a giugno sono state aperte 8-9 imprese, e di Imperia, dove sono state addirittura 10 in sole tre mesi. Numericamente maggiori sono le imprese attive che producono ortaggi, radici e tuberi. 1.960 unità, e quelle che producono fiori e altre colture non permanenti. Inoltre, a livello generale, per tutti i settori economici regionali, si sottolinea una riduzione dell'8,3% delle chiusure di imprese, dato più basso registrato dal 2011, e segno di una lenta ma continua ripresa dalla crisi economica. Il settore primario in Liguria, affermano il presidente di Coldiretti Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, è un comparto economico sempre vivo e dinamico, che nonostante le difficoltà morfologiche del territorio e la presenza di grandi aree boschive, produce eccellenze conosciute in tutto il mondo.